Ed eccoci qui ancora una volta su Foot17 per la Road to Division 1, siamo in divisione 6, nella scorsa puntata abbiamo portato a casa una vittoria e una sconfitta un po' così e così, oggi faremo altre tre partite e vediamo se portiamo a casa ulteriori punti. Primo avversario, abbiamo trovato l'avversario, ha una squadra italiana, è napoletano, trovo sempre avversari napoletani, andiamo a vincere, noi abbiamo la maglietta rossa, iniziata, la tocchiamo sulla fascia, attenzione, Iturbe la prova a mettere in mezzo, palla deviata, il tiro, palla deviata, Iturbe la colpisce male, ha pochi passi dal gol. Il passaggio sulla fascia, oh bello il passaggio di tacco, la palla rimane lì, il tiro ed è 1 a 0, subito al settimo minuto e avevamo già costruito davvero tantissime e pericolosissime azioni eh. La teniamo molto bene, attenzione Iturbe, Iturbe la tocca bene, sulla fascia molto bene per Donza, Donza la colpisce male, sbaglia, 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 sbaglia. Sbaglia, 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 eh, non puoi sbagliare contro di me, 2 a 0, chiudiamo la partita, dai che quitta, bello, bello per Keita, 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 la mette in mezzo, arriva lui, quasi 3 a 0. Eh ma c'è stata una deviazione miracolosa del difensore, ecco perché, ma, madonna, bello, bello questo passaggio, attenzione il tocco a Mandzukic, 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 nooo. Contropiede Armero, Armero, ancora lui, finta di Armero, il passaggio è buono, scatta sulla fascia, attenzione al tiro. 3 a 0, al primo tempo, mamma mia, lo stiamo distruggendo. Finisce il primo tempo con queste statistiche, stiamo distruggendo l'avversario. Calcio d'angolo per il nostro avversario, pallone e mezzo, colpo di testa a spazzare, proverà a tirare da lì, il tiro è hart. Ottimo, ancora un tocco, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo, ce ne andiamo, 4 a 0, si va sul concreto, ancora Keita, mamma mia, poker, 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 poker dell'FC Dark Knight. Sione che prova ad andare, se ne va, e lo chiudiamo molto bene, attenzione, palla che rimane lì, salta l'avversario, il tiro, attenzione, 4 a 1, ha segnato, ha fatto pure una bella azione, dai. Chiudilo, chiudilo, attenzione, quasi 4 a 2, si sveglia smemorato, grande, 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 attenzione, ai turbe, la parata, la palla rimane lì, incredibile il tiro, nooo, nooo. Ottimo passaggio, finta, saltiamo l'avversario, il tiro, Buffon, in calcio d'angolo, bello il passaggio a Mandzukic, Mandzukic, ancora lui, si gira il passaggio, la finta, la tiene, il tocco a Don Zaa, Don Zaa per i turbe, i turbe, si infila, i turbe, la parata di Buffon, il tiro e la parata di Buffon. Meno male che ha questo portiere, se no finiva 7 a 1. Keita, Keita finta di Keita, poi il tiro, la parata, la palla rimane lì, attenzione, il tiro, ancora Buffon. E finisce, 4 a 1, in questa prima partita di questa puntata. Diciamo che nel secondo tempo il nostro avversario ha tirato un po' di più, ma guardate le statistiche, 18-14 per noi. Non ce n'è per nessuno, non ce n'è per nessuno, dovete solo rosicare. Andiamo a trovare il prossimo avversario. Avversario trovato, la squadra si chiama Panzerrotto. Attenzione, 100% di intesa, valutazione 81. E questo è uno che gioca di contropiede perché ha soli giocatori veloci e si è messo tutto in difesa. Ecco, quello è il problema. Visto che vuole giocare in contropiede, cerchiamo subito di fare 3-4 gol. Attenzione, chiudilo, chiudilo Art. Bello questo 1-2 con Kae-On. Attenzione a Kae-On. Kae-On si infila nell'area di rigore ancora Kae-On, Kae-On, Kae-On. No! 1-0! Non gioca i turbe, gioca Kae-On. Ed è 1-0 lo stesso. Mi dispiace, tu volevi fare il giochetti, volevi fare i giochetti. Ecco, continua a fare i giochetti, che io vado sul concreto. Io vado sul concreto, subito un passaggio, anche questo è buono. Mamma mia, guardate come si gioca nell'area di rigore. Ancora il rigore? No, no, è caduto da solo, è svenuto, ha trovato un masso a terra, niente di che. Sì, noi proviamo a chiudere. No, no, sempre lo stesso errore difensivo di merda. Sempre lo stesso errore difensivo di merda. Porca... Subito il tocco, si infila nell'area di rigore, il tiro, la parata, il tiro e decolla! Rispondiamo subito con Mario Lemina! Mario Lemina? Sì, sì, Lemina. Mario Lemina! No, di nuovo contropiede. Di nuovo contropiede. 2-2. Partita davvero molto bugiarda. Nostro avversario ha tirato due volte in porta. Un errore difensivo e un contropiede. Mannaggia. Bello, 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 bello. Ci giriamo, pallone in mezzo. Il colpo di testa attraverso! Madun! Dai, 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 rispondiamo subito di nuovo. Dopo la traversa e 3-2. E adesso vediamo se riesce a fare un altro contropiede. Mamma mia che azione ho fatto, che azione ho fatto. 3-2 siamo ancora al primo tempo, eh. Eccolo, utilizza sempre quel giocatore di merda. Subito il tocco, anche questo, anche questo, va bene. Tocco ancora uno. Mamma mia, mamma mia. Quasi 4-2. Contropiede, contropiede, contropiede. Che palle. Finisce il primo tempo. Io davvero non so come contrastare i contropiedi. Davvero, incredibile. Attenzione, si è infilato il tiro. Hart. Bello sto passaggio. Però Mandzukic, che ci fai da questa parte? Mandzukic, rigore. Eh, mamma mia. Eh, mamma mia. Eh, mamma mia. Ti faccio vedere io. Adesso ti faccio vedere io. Tiro centrale piano. Oh, così segno sicuro. Mamma mia, 4-2. La chiudiamo, oddio. Non puoi partire in contropiede, mi dispiace. Pallone fuori di poco, però. Bene. La teniamo benissimo. Se ne va Keita. Keita fa una finta. Subito un passaggio. Palla deviata. Subito un tocco. Palla tenuta. Subito per Badou. Badou. Ancora un passaggio. Anche questo è buono. Anche questo. Subito così. 1-2. Ci infiliamo. Mamma mia. 5-2. Oggi tantissimi gol. Tantissimi gol. Ragazzi, guardate come si gioca quando non c'è lo script. Questo passaggio. Anche questo. La chiusura va benissimo. Anche questo passaggio è ottimo. Il tocco. Mandzukic. Ok. 1-2. Ancora. Subito il tocco. Attenzione al tiro. Mamma mia. Quasi 6-2. Finisce. Partita meritatissima. Mamma mia, ragazzi. Due partite assurde. 5-2. E prima 4-1. Già 9 gol fatti. Prossimo avversario. 9 punti. Ce ne manca uno. Già per la salvezza. Avversario trovato. Attenzione. Perché ha una squadra abbastanza, abbastanza forte. Intesa 100%. Valutazione 83. A Gabbiadini. A Gabbiadini. A Walcott. A Nengolan. Florenzi. Il match inizia. L'FC Dark Knight cercherà di portare a casa la sua terza vittoria in questa puntata. Il tocco è buono. Finta. Ci infiliamo. Attenzione al tiro. No. Ma la palla è stata deviata. Quindi pallone in mezzo che mette Florenzi. Madò. Florenzi. Finta. La tiene. Florenzi. Si accentra. La va a toccare a Donzà. Donzà. Spazio. Prova il tiro. La para a Begovic. Calcio d'angolo. Attenzione che lì c'è Mandzukic. La palla scende. Il colpo di testa. Astori. 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 1-0. L'FC Dark Knight non si ferma. Passaggio è buono. Attenzione. Dall'altra parte c'è K. E' on. Attenzione. Rubbiamo il pallone. Saltiamo l'avversario. Finta. La va a toccare. Molto bene il tiro. Prontocco. Mandzukic per K. E' on. Finta. Saltiamo l'avversario. Attenzione. E' il... No. E' dai. 2-0. 2-2-2. Attenzione al nostro avversario che proverà a segnare, a tirare, a fare gol alla prima occasione. Niente di che tira dalla distanza. Vai. Finta. Vai. Finta. Vai. 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 Dobbiamo segnare. Dobbiamo fare sto 2-0. Mamma mia. Gli rubbiamo il pallone e ce ne andiamo. Gli rubbiamo il pallone e ce ne andiamo. Mamma mia che fallo lì. Subito il tocco a K. E' on. Che si infila il tiro di K. E' on. 2-0, signori. 2-0. Chapeau. 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 Pallone che rimane lì. Pallone in mezzo. Il colpo di testa. 2-1. 2-1. Primo tiro in porta. Vabbè. Ha fatto gol. Ha fatto gol. Ha fatto gol. Accorcia le distanze. Bello. Bellissimo. 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 Ragazzi, ma state vedendo che azioni costruiamo. 3-1. Munizione pericolosa. La batte Florenzi. Colpo di testa che rimane lì. Tiro e poi Begovic. Dai. Chapeau. Subito il tocco sulla fascia. Attenzione. Ci infiliamo. Pallone in mezzo. Attenzione al tiro. Levati. Levati. C'era Mandzukic. Lui sfrutta molto le fasce perché vuole segnare con Kane. E infatti ci prova molto. Finisce il primo tempo. 3-1. Ebbè. Lo meritiamo anche questo. Attenzione. Ce ne andiamo ancora con Badu. Badu sulla fascia. Ancora Badu. Semina il panico. Poi subito il passaggio. Anche questo tocco. Ma niente di che. Può ripartire con Nainggolan. Ma perde subito il pallone. Cerchiamo di farla girare. Ancora Kaé Hon. Che perde la sfera. Ancora noi. Non riesce a uscire l'avversario dalla propria aria di rigore. Pallone fuori di poco. Facciamo qualche sostituzione. Giusto per vedere facce nuove. Entra De Sciglio al posto di Armero. Entra Rugani al posto di Astori. E ci andiamo a mettere incredibilmente Piaka al posto di Keita. Vai Piaka. Vai così Piaka. Ammazza Piaka. Vai. Kaé Hon. L'ha parata. Quel maledetto. Perché l'ha passata? Pallone in mezzo. Il portiere con i pugni. Attenzione. Chiudi. 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 No. E dai. Blocca la. Il tocco. Ancora uno. Piaka. Piaka. Finta di Piaka. Ancora lui nell'area di rigore. Attenzione a Piaka. Subito il passaggio. Anche questo è buono. Il tiro. E si salva. Culone maledetto. Un po' di tacco. E dalla bene. Vai così. Bello. Guardalo. Guardalo. Che scatta. Attenzione. Badu. 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 Tira. 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 La polizia. Ok. Siamo al novantesimo. Ultima occasione per noi. Con Piaka. Che si infila. E riesce a salvarsi. Nel secondo tempo. Il nostro avversario è riuscito a difendere meglio. Finisce 3 a 1. Una partita super mega meritata. Signori. Cosa posso dire? Cosa posso dire? Signori. Cosa posso dire? Signori. Guardate ancora una volta le statistiche. Andiamo a vedere. Che il nostro squadrone. L'FC Dark Knight arriva a 12 punti. Retrocessione evitata. 5 partite al termine. 4 punti per la nuova divisione. Ragazzi. Se l'appuntamento di oggi vi è piaciuto. Lasciate un bel like. Condividete. Commentate. Un bacione a tutti. Da PRDarkknight91. Novantuno. no